Mobilitazione generale per salvare M49, l'orso sloveno a cui tutti in Trentino danno la caccia dopo la sua fuga da un recinto elettrizzato. Intanto già pronta una serie di esposti al TAR per evitare che venga data esecuzione all'ordinanza di abbattimento disposta dalla provincia autonoma del Trentino Alto Adige. Poi soprattutto che l'orso sloveno M49, ribattezzato Papione in onore del famoso film del 73 di Noer, che racconta la drammatica fuga di alcuni prigionieri da un carcere di sicurezza, possa avere un'altra chance, magari tra i monti abruzzesi pieni di luoghi a lui congeniali. Tra questi un'ampia area a Villa Vallelonga, a circa mille metri lontana da Levamenti, già recintata, dove M49 può vivere in piena tranquillità. Noi ci auguriamo intanto che l'ordinanza, anche quest'ultima che è stata fatta, e che eventualmente impugneremo, come abbiamo impugnato anche le altre, speriamo che venga revocata. Lo abbiamo chiesto formalmente e abbiamo interpellato anche la Procura della Repubblica per chiedere un sequestro dell'orso. Ma qualora dovesse essere necessario, abbiamo provato a vedere se qui in Abruzzo c'erano delle osi faunistiche disponibili. Ho contattato il sindaco di Villa Vallelonga che subito, immediatamente, ha dato la sua disponibilità e poi ha provveduto anche personalmente a scrivere una lettera anche al Ministro per ribadire e confermare che la struttura di Villa Vallelonga potrebbe essere una struttura disponibile ad ospitare l'orso, anche perché attualmente non ci sono più orsi. Ha ospitato per tantissimi anni due famosi orsi, una è morta recentemente, Yoga, prima c'era l'orso Sandrino anche. Attualmente quindi è una struttura molto ampia di oltre 20 ettari senza orsi, ma che potrebbe essere congeniale anche per M49. Quindi nell'ipotesi in cui dovesse essere catturato e non dovessero esserci altre strutture disponibili, noi dall'Abruzzo tendiamo veramente la mano e dimostriamo anche la nostra cultura di grande rispetto nei confronti di questo animale.